Ecco, dei fiscaletti, che praticamente durante, insomma, sotto questo fondo musicale, proprio sotto questa lina lanna fatta appunto con la chitarra o con il piano, poi si sentono, insomma, questi suoni, che sono gli uccelli, no? E in base proprio, ho preso proprio per gli uccelli più grossi, strumenti a fiato più grossi, e per gli uccelli più piccoli, strumenti a fiato più piccoli, no? E proprio, non tanto suonati come melodici, ma proprio per similare il suono degli uccelli. Certo, se c'è un ippocoto, magari usavo un sax soprano, ma l'ippocoto non c'era. Oppure abbiamo usato, per esempio, il sax in un brano, che io non suono il sax, sono fatto fare da un mio amico, perché c'erano queste altre che si manavano tipo battelle, quindi ci sono questi suoni sax, tipo uno, che un po' ricordano. E ogni cosa così, anche ho usato il piano, per esempio, perché io ho un piano scordato a casa, che è estremamente l'accordatore, mi ha detto, questo piano con l'umidità...